Il calcio è passione ma soprattutto è felicità. A Firenze il calcio è molto più che uno sport, fa parte della vita quotidiana. Ma come vive questa passione chi abita all'estero? Sono andato alla ricerca dei tifosi viola nel mondo facendomi raccontare le loro storie, le loro abitudini ma soprattutto i sacrifici che fanno per seguire la Fiorentina. Reggetevi forte ragazzi, inizia Viola porre il mondo. Bentornati ragazzi anche questa settimana a Viola porre il mondo, il programma che va alla ricerca di tifosi viola nel mondo. Ragazzi non è vero che siamo così pochi, ve lo sto dimostrando, ma soprattutto non è vero che i tifosi viola sono solo a Firenze. Per chi si fosse perso le precedenti puntate vi invito ragazzi a lasciare un bel migarba per sostenere questo progetto e tutti i miei video, ma soprattutto vi invito a vedere la playlist che ho creato sul mio canale con tutte le puntate di Viola porre il mondo. Ma questa settimana ragazzi ci tingiamo un po' d'arte, ci tingiamo un po' d'amore perché andremo in quello che è il paese romantico per antonomasia, andremo in Francia precisamente a Parigi, una città che vive di calcio così come facciamo a Firenze e che ci aiuterà a scoprire quelle che sono le similitudini tra la grande capitale dell'amore Parigi e la nostra Firenze. Incontreremo appunto Lorenzo, un esponente del pensate Viola Club di Parigi, un Viola Club storico, un Viola Club che ormai è una realtà che va avanti da molti anni e che mi ha fatto piacere conoscere perché ci tenevo veramente tanto a conoscere una realtà così ben radicata del tipo Viola in tutta Europa. Io ringrazio ancora Firenze Viola e 999 Ricordi Viola per sostenere questo progetto a gran voce, ma ragazzi vi invito a lasciare davvero un bel migarba e a iscrivervi a questo canale per vedere tutte le puntate di Viola porre il mondo. Ragazzi sosteniamo questo progetto perché parla di noi. Basta parlare, voliamo a Parigi e incontriamo Lorenzo del Viola Club Paris. Eccolo! Ciao a tutti! Scusa il mio accento pessimo francese, ma benvenuto, benvenuto Lore. Grazie. Grazie anche insomma per far parte di questo progetto. Anche a te ti voglio brevemente ricordare quello che è la mission, quindi questo vero programma perché nasce che è quello non solo di trovare tifosi Viola in tutto il mondo, ma soprattutto per parlare di voi e oggi voglio parlare soprattutto di te Lorenzo. Da quanto tempo è che sei a Parigi e come hai scoperto il Viola Club di Parigi? Allora, io sono a Parigi dal 2016, dal settembre 2016, quindi sono un po' più di 5 anni, diciamo entro nel sesto anno parigino, sono venuto qui per studiare e ci sono rimasto, sto facendo un dottorato, insegno all'università e quindi vabbè, insomma, sono rimasto qua giù. Io sono stato abbonato ininterrottamente allo stadio quei mie babbo dal 2004. Non mi sono perso una partita in trasferta nemmeno alla mia... Di Firenze, scusa. O Fiorentino. Sì, sì, sì. Di Firenze proprio. Fiorentino, sì, sì, sì. E' nato in piazza indipendenza, proprio Fiorentino. I primi due anni a Parigi, col fatto che andavo all'università e potevo tornare un po' più flessibilmente, ho rifatto l'abbonamento e ogni volta che tornavo, comunque una decina di partite l'anno riescevo a vederle, però comunque per uno tifoso, insomma, vero tifoso, insomma, vedere la partita da solo, computer, in streaming magari, cioè, non era proprio in massimo. Quindi ho cercato su Facebook Viola Club Parigi e c'era già un Viola Club attivo da qualche anno, perché stava fondato nel 2009-2010, che è questo qui. Il Parigi. Sì, sì, lo vediamo benissimo. Sì, sì, perfetto. E niente, quindi sono entrato a far parte di questa squadra, perché è una squadra di una gabbia di matti, di persone di... Come tutti i tifosi Viola. Ovviamente, però noi siamo anche in trasferta, quindi trovi persone che sono doppiamente infognate alla Fiorentina. È un gruppo veramente eterogeneo, perché ci sono persone che vengono a fare l'Erasmus a Parigi durante l'università, quindi che sono miei coetanei, io ho 25 anni, quindi quando sono arrivato qua giù ne avevo 20, sono miei coetanei, che però poi ripartono dopo sei mesi o nove mesi di Erasmus e magari tornano qualche volta. C'è il ragazzo che viene a farsi la stagione come cameriere nel ristorante, però c'è anche l'architetto che si trasferisce qui come in Melandri al comune di Parigi e fa l'architetto del comune. C'è quello che lavora nello spettacolo e fa il balletto, c'è quello che lavora nella finanza. Insomma, ce n'è di tutti i gusti. Con il Covid è stato diverso, però normalmente ci sono un sacco di persone che magari vengono a farsi il weekend a Parigi perché la moglie vuol fare il weekend a Parigi quando giova alla Fiorentina. Oppure vengono a farsi appunto tre giorni alla fiera del mobile di Parigi e poi scrivono su Facebook, ragazzi, dove la vedete la partita e ci si trova a vedere il match insieme. Noi non abbiamo una sede ufficiale del Viola Lab, quindi praticamente basta scrivere su Facebook e vi risponde uno di noi, i bischeri, e vi dice guarda la partita stavolta la vediamo qui, però c'è un bar dove siamo che è in zona centrale di Parigi che si può raggiungere benissimo con metro e mezzi, nel quale abbiamo una sala enorme al primo piano dove vediamo la partita tutti insieme. Visto che te sei fiorentino, Doc, e hai vissuto la Fiorentina al cento per cento allo stadio ed in prima persona, ti hai notato qualche differenza fra il tifoso locale e il tifoso estero, chiamiamolo, cioè chi invece la ti fa da lontano? Una differenza d'approccio, di viverla, ecco. Tanti motivi, c'è un motivo più pratico, cioè che nelle grandi città all'estero è pieno di milanesi, romani, napoletani e quindi trovi spessissimo bar dove trasmettono, ovviamente qui in Francia dove il calcio è il terzo sport dopo il rugby e la palla a mano, il calcio italiano è trasmesso come se fosse da noi l'NBA per il basket, quindi lo trovi da tutte le parti e però trovi questi enormi agglomerati di tifosi azzurri o di tifosi giallorossi o di tifosi interisti, poi trovi il ragazzo parigino, qui va un sacco per esempio di moda, non so perché, ma va un sacco di moda andare a giro con le tute complete della squadra di calcio. Io mi auguro che tu sia andato all'università con quella maglia lì, me lo auguro. Io faccio lezione con questa maglia. All'estero si vive con molta più passione perché sei lontano, perché non puoi andare, sciocchezza, prima della semifinale di Coppa Italia, non puoi andare allo stadio a vedere l'ultimo allenamento. Parli con uno che comunque ogni tanto qualche traspetta se l'è fatta quando era a Firenze, insomma non è proprio la stessa cosa, vederla da lontano è sempre più problematico. Esatto, i tifosi lontani, come la vivono? Nel senso che io una cosa che notai a Roma, avendo passato più tempo lì e lì c'è anche un grandissimo Viola Club, che i tifosi romani vivevano la partita e si informavano sulla Fiorentina molto più di me. Ma noi siamo collegatissimi H24, cioè te fai conto, con il fatto che ci sono dei radio streaming, sul nostro gruppo noi ci si sveglia la mattina e se alle 7 e un quarto non c'è nessuno che ha messo l'ultima notizia, ci si chiede oh ma ragazzi oggi che succede? Siamo tutti addormentati. Qui si fa la doccia la mattina con radio sportiva italiana in streaming per sapere tutto quello che succede. Purtroppo è anche l'unico modo con cui puoi tenere un po' di, anche psicologicamente, qualche legame con casa. Torno a Firenze e mi commissionano di portare le magliette su quelle nuove. È molto comunitaria questa cosa, siamo molto contenti di questo. Quanto ti ha aiutato a ambientarti trovando questo Viola Club? Mi ha aiutato tanto, non tanto ad ambientarmi qui a Parigi perché fortunatamente arrivando con l'università sono arrivato con la mia classe universitaria e quindi avevo già i miei amici e tutto quanto, ma comunque parlavo già francese. Però quello che aiuta tanto è avere persone che parlano sempre una sciocchezza ma con lo stesso accento. Appunto sei a un bar con persone che non sono magari le prime volte andavo a vederla così dove capitava e la palla usciva o prendevi il palo e sentivi un moccolo da lontano a mi sento in maratona o in prima ferrovia. Non ci pensiamo, è proprio un po' è in parte parte della domanda che ti ho fatto prima, nel senso che viverla da fuori noti veramente delle piccolezze che nella quotidianità, nella routine che a Firenze non noti. Io sono stato, sono orgoglioso di averla anche tifata da fuori per tanto tempo, averla vista tanto tempo da lontano perché credo che da una parte si sia anche rafforzato questo legame. Poi io facendo anche video diciamo che era anche un modo per tenermi sempre appunto più attaccato a casa. Sì sì assolutamente, proprio io me ne rendo conto perché comunque se io quando per esempio passo, che ne so, i mesi d'estate a Firenze o quando torno è possibile tornare a Natale, ti svegli, esci la mattina, io poi sto vicino, cioè sto praticamente in centro, attraverso Piazza d'Azzeglio, il primo giornalaio che vedo, cioè comunque le prime pagine della Nazione, trovi appunto sempre una notizia sulla Fiorentina intorno a te, un giglio da qualche parte lo trovi sempre qui, è difficile, quindi se non trovi un modo per tenerti aggrappato, noi siamo molto orgogliosi di questa nostra fede. Senti ti chiedo qual è il ricordo più prezioso che hai sulla Fiorentina? Io mi ricordo perché era il primo anno in cui andavo più regolarmente allo stadio, stagione 2004-2005, penso fosse fine maggio 2005, Fiorentina Brescia 3-0, mi ricordo fu la prima volta in cui pianzi di gioia nella mia vita da bambino e mi ricordo questo odore di sigaro toscano allo stadio, bandiere viola ovunque, l'inno a fine partita in quegli altoparlanti vecchi dove c'erano ancora le cose anni 80, mio padre con le larime agli occhi, gente che avevo otto anni, mi abbracciava di qua e di là, mi sollevava a saltare, per me era la cosa più bella della mia infanzia. Raccontami purtroppo un momento triste invece che hai vissuto. Diciamo che un momento triste sempre legato al fatto che comunque ero abbastanza giovane, avevo 14 anni, fu il famoso Vrebo a Monaco sul 2-1, lì è stato un momento qui, dopo tutta la tensione della partita, la stai portando a casa, segna Rodruppi il pareggio, sei lì e dici vabbè stai facendo una grande prestazione, ma un gol così guardi il replay e dici scusate ma questo è fatto apposta. Lì proprio ti cascano le braccia e lì proprio è stato quello e poi anche la, invece è una Milan, mamma mia, ho visto la tua faccia, ci siamo a piedi da sole. Come hai vissuto la scomparsa del capitano? Sei fuori? È stato molto particolare perché era il 4 marzo e si votava in Italia e io ero tornato a votare, ero tornato a votare e quel giorno avevo votato e poi ho preso il treno subito dopo e io mi ricordo questo viaggio in treno con le notizie che si susseguivano, gente che era in treno e che andava a vedere le partite della Serie A, perché ovviamente io parto con il Freccia Rossa, quindi comunque c'era gente andando a Milano del Roma, andava a vedere le partite e io mi ricordo questo silenzio dopo che tutta la partita domattina stavamo parlando di calcio, perché ovviamente col vicino di treno e tutto quanto, questo silenzio è stato surreale, la sensazione di essere impotente perché sei fisso su, cioè sei fermo su un sedile del treno e buh non lo so, è stato quasi surreale veramente, cioè non sono riuscito a realizzare senza subito, però è stato qualcosa che comunque ha colpito moltissimo la mia persona, come tutti quelli che avevo intorno a me, come è normale che sia, più che altro appunto perché è arrivato in un momento in cui comunque è arrivato un fulmine a ciel sereno, capito, si può capire una persona da tanto malata che è stato un ex della Fiorentina e che poi in tardetà scompare, è un conto. Come Borgo Novo purtroppo. Eh, capito, lì sono drammi che comunque ci fanno stringere il popolo viola, però dall'altro lato in questo modo è stato proprio inatteso. Te hai mai pensato magari di dire, ok, adesso io mi sono trasferito, non parlo dell'Erasmus, eh, dico quando proprio hai deciso di rimanere a Parigi, mi sono trasferito, adesso inizia magari la mia carriera lavorativa, inizia la mia vita, hai mai pensato di smettere di vedere la Fiorentina? Penso che sia stata una delle poche cose che non mi è mai passata per la testa, io voglio dire piuttosto la fidanzata a distanza di rilasciare, però non di smettere di c'è una cosa strana questa, è quasi una malattia forse, non lo so, è un amore, penso sicuro. Mi aggancio proprio alla domanda successiva che è molto in linea a questo, se ci sono stati dei sacrifici che hai fatto per vederla. Sì, sì, ma poi anche per il fatto che comunque delle volte appunto le partite sono infrasettimanali e magari appunto sei a fare altro il lunedì alle 18, alle 19, magari sei al lavoro e cerchi la scusa per uscire, oppure te la guardi mentre stai guardando appunto, sei a lezione e c'hai il telefono con Dazon sotto la cattedra e purtroppo la verità è che i veri sacrifici sono anche quelli che templano un po' il tifoso, cioè io parlo dei sacrifici più di adesso, ma magari quando ero più piccolino e sei andato allo stadio, mio babbo mi ha sempre portato in settori non coperti anche quando ero bambino e non è che c'è sotto l'acqua, forza viola lei, cioè guarda sotto l'acqua. Ammettiamo che te, tu decida di rimanere tutta la vita a Parigi o comunque all'estero, perché tuo figlio dovrebbe nascere tifoso viola, dovrebbe diventare tifoso viola? Anzi diciamo nascere, perché si nasce secondo me? Dipenderà tanto da lui essendo una sua scelta e comunque in ogni caso appoggerai qualsiasi cosa decidesse di fare. Siamo sicuri, quasi, quasi. Uno deve dire così, poi nella moral equation, nella persuasione, si può avere un figliolo quando non è piccolo, sai capito? Cioè si può inquadrare subito, nell'ipotesi in cui avessi un figlio qui a Parigi e vivessi a Parigi, sarei contento se mio figlio ovviamente ti fasse la squadra per cui ti fesso babbo, oppure la squadra della sua città, cioè il Paris Saint Germain, che comunque al di là di tutto, io appunto anche su tutto il discorso delle squadre che hanno i soldi, queste squadre comunque esistevano anche prima dei veri soldi e c'erano tanti tifosi del City e c'erano tanti tifosi appunto del Paris Saint Germain e io avendo la fortuna di vivere qui conosco, ho tanti amici che sono ultra del Paris Saint Germain e che comunque sono tifosi da tanti anni e loro mi dicono sì è vero, ora ci prendono tutti in giro, però nel 2001 quando eravamo terzultimi, io allo stadio c'ero a vedere una squadra ridicola con Pauletta davanti che era il nostro fenomeno, penso che comunque esista una cosa che è questa cosa qua e basta, il resto uno quando è bambino, sì c'hai l'idolo, c'è la cosa, il giocatore però le maglie si compran senza nome, mi ha insegnato che mi babbo. Però c'è stato un giocatore che ti è dispiaciuto veramente se ne potesse andare o ci sarà? A questi punti ti potrei chiedere. Nessuno, perché ero troppo piccolo per vivere il dramma batistuta alla Roma con lo scudetto l'anno dopo ed ero già troppo grande, avevo 11 anni, ero già troppo grande per credere alla favola del fatto che Tony restasse alla Fiorentina quando c'era ovviamente un gap tecnico e economico differente e sinceramente io sono anche contento così, nel senso, a parte le grandissime bandiere, a parte gli Antonioni, che però appunto ce n'è uno di Antonioni, è anche bene che ci sia un solo Antonioni, un solo Maldini, un solo Totti, un solo Zanetti, no? Un solo del Piero. Allora, finisco l'ultima domanda, poi non ti lascio alla tua vita parigina e al tuo orgoglio viola da Parigi, che è la domanda un po' che faccio a tutti. Perché la Fiorentina, qualora dovesse decidere di investire, di creare, diciamo, un passaggio satellite, perché lo dovrebbe fare proprio a Parigi o in Francia? Intanto perché Firenze e Parigi sono le due città molto simili, nel senso che sono due città dal punto di vista artistico egemoni nei rispettivi paesi e secondariamente perché comunque Parigi offre delle opportunità che altre città in Europa non offrono, perché comunque Londra non è più nell'Unione Europea, quindi anche dal punto di vista commerciale e tutto quanto, Parigi è il primo porto, tra virgolette, più vicino dove l'italiano ha un rapporto particolare, perché sì Berlino, sì tutto quanto, però comunque Parigi, la Francia per un italiano ha comunque un significato diverso rispetto ad altri posti. se sei più vicino a me, evidente, io più mi sei avvicinato alla Fiorentina, più sono contento, però è vero che comunque noi siamo tifosi e noi si deve pensare al campo. Se vuoi fare un recap di quello che è il Viola Club a Parigi, dove vi possono contattare, dove vi possono trovare, insomma, quello che fate. su Facebook, poi noi abbiamo vari gruppi WhatsApp per varie questioni logistiche, organizzazione delle partite, oppure anche soltanto stare insieme, perché voglio dire, noi del Viola Club Parigi non è che siamo soltanto amici per la Fiorentina, tramite la Fiorentina poi siamo riusciti a creare un gruppo con cui ci vediamo due o tre volte a settimana, magari da domenica pomeriggio quando c'è la sosta nazionale, comunque ci si vede un caffè insieme, siamo attivi sui social, quindi ci sta la pagina Instagram Viola Club Parigi e la pagina Facebook, c'è il gruppo Facebook, dove anche se venite una volta sola all'anno, una volta sola nella vita a Parigi, potete comunque contattarci perché volete vedere la partita insieme, insomma. Lo farò quando venga a Parigi. E ovviamente sei invitato. Certo, assolutamente. Niente, quindi questo, siamo qui, abbraccio aperto e vi si accoglie tutti. Grazie allora a Lorenzo, grazie a tutto il Viola Club Pari, Pari, perché non Parigi, è più bello il Parigi, all'accento fragile. Esatto. Grazie, grazie a tutti, grazie anche a voi che avete assistito a questa nuova puntata di Viola per il mondo, ci sentiamo prossimamente per una nuova puntata, io ringrazio nuovamente Lorenzo, vi invito a lasciare un mi garbato se avete garbato questo video e se avete garbato il format e ovviamente a seguire tutti i miei canali e il Viola Club Pari. Forza Viola e JM, diciamolo. Sempre.